Salve, sono Manuela Pompa, sono il direttore di Karma News, questo giornale online e abbiamo con delle collaboratrici organizzato un convegno dal nome Guarire che verrà su YouTube il 27 e il 28 febbraio con una serie di relatori molto interessanti di varie discipline legate alla medicina olistica. Una cosa che mi affascina della medicina olistica è che non si cura solo di eliminare il sintomo ma si propone di sanare il terreno, vuol dire che in teoria una persona che si cura bene non dovrebbe più avere quel tipo di patologia. Noi siamo corpo, mente e spirito e alcune medicine agiscono su tutti i piani. Certo ci vuole una nostra collaborazione e uno stile di vita positivo. Per la scienza l'uomo potrebbe vivere fino a cento e vent'anni senza inquinamento e senza stress. Noi individualmente non possiamo combattere l'inquinamento più di tanti ma lo stress sì perché ci sono anche tante tecniche per rilassarsi e scaricare lo stress giornaliero. Le cose sono molto interessanti. Come vi dicevo si parlerà anche di emozioni, si parlerà di questa unione corpo-mente e poi di come essere in armonia con la natura e usare la natura per sanare le parti che non funzionano. Io vi aspetto in tanti. Per iscrivervi dovete andare sul magazine www.karmanews.it e ci sono tutte le procedure per entrare e riceverete il link delle due giornate. Se per un caso non potete partecipare avrete lo stesso link e potrete vederlo nei giorni successivi su youtube. Quindi vi aspetto. C'è stata tanta passione nel organizzare questo convegno e quindi ci aspettiamo che voi veniate in tanti. Grazie e a presto. Vi aspetto sabato e domenica.